Sentirmi dare del venduto, del corrotto, di aver venduto l'anima, dello schiavo di Bill Gates, del venduto ai poteri forti, minacce di morte, francamente sono cose che poco mi entusiasmano, che condanno, che rispingo, ma che non diminuiscono il mio entusiasmo in quella che è una missione che oggi sto portando avanti, che è quello di servire la mia comunità. Ancora un attacco personale ai primi cittadini che scelgono di sostenere la campagna vaccinale, anche attraverso appelli alla loro comunità. Come è accaduto al sindaco di Saonara nel Padovano, Walter Stefan, questa volta tocca al sindaco di Treviso, Mario Conte. Non è il primo attacco social subito dal primo cittadino che non ha mai nascosto la sua fiducia nella scienza e nel sistema sanitario. Io guardate, continuo a vedere un aumento dei contagi, purtroppo stanno cominciando ad aumentare, anche se per fortuna lentamente i ricoveri e le terapie intensive, e quando guardo questi due effetti mi torna in mente subito chiusura, coprifuoco, lockdown. Ecco, queste tre parole qua, siccome per me corrispondono a sacrifici, lacrime, dolore, protesta, rabbia da parte dei miei cittadini, associazioni di categoria, io non voglio più vederle. Per far questo io ho deciso di fidarmi della scienza e ho deciso di vaccinarmi. Insulti e offese sui social, anche per essersi espresso in termini ottimistici nei confronti del Green Pass, una posizione su cui Conte è tornato all'indomani dei primi attacchi e nonostante la posizione più dura dei vertici del suo stesso partito. Credo che oggi consigliare di vaccinarsi sia qualcosa di responsabile, rispetto chi decide di non farlo, però dico altrettanto che non voglio più tornare alle chiusure. E per non tornare alla chiusure ognuno di noi deve assumersi le proprie responsabilità, o di vaccinarsi o di assumersi le responsabilità di subire alcune limitazioni.